Ciao a tutti ragazzi, io come sempre sono Davide Benvenuti in questo nuovo video Scusate per questa lunga attesa, è che ero un po' impegnato Sono ritornato a far gameplay su Takedown Red Saber Perché non avendo ancora adesso molto tempo da dedicare a Youtube È il gioco nella quale ci metto meno tempo a far video Direi subito che si può iniziare a fare una partitina veloce Allora andiamo subito a giocare Questa volta facciamo una missione su una nuova mappa Facciamo questo qua, anche se l'abbiamo già fatto Accept Allora Tanto so Ciò che non riuscirò mai a finirlo sto gioco Allora Come potrete vedere Nella modalità missione Ci sono anche altri miei Sono altri tre Miei compagni di squadra Usate se farlo così È che sono un po' concentrato Che cazzo Che? Che cazzo Ma dov'è? Qua hanno ucciso il mio compagno Ah, qua c'è una Una guardia Può andare fuori da per di qua Non c'è nessuno Meglio Andiamo fuori Ecco, ovviamente Qua non c'è nessuno Mi sembra un po' stisile Un po' del cavolo sti qua Non c'è nessuno Vabbè Usciamo Allora Allora Ma dov'è cao l'acquistara? No c'è nessuno No c'è nessuno No c'è nessuno No c'è nessuno Qua sento sparare ma non so da dove è Ovviamente Proviamo a fare un'altra partita Single player Cambiamo mappa E anche modalità Lasciamo la bio lab Ok Elimina tutti i nemici Cambiamo punto di inserzione Proviamo questa Dai Eccoci qua Abbiamo il pezzo Che non gioco più a takedown Quindi forse ho perso anche un po' la mano Ok Due Li ho uccisi Tre Quattro E qui non c'è nessuno Teoria Vabbè Andiamo di sopra Qui non c'è nessuno Ho fatto il devasto Ok Qua adesso mi sa che C'è la parte più cruciale E quella più difficile Questo fu un Ah no Ho pagato Allora proviamo a tirare una granata La cosa più bella di questo gioco Ma Vediamo se l'ho preso Orco Sento di passi che non sono i miei quindi Meglio scappare Forse erano i miei C'è un po' di ritardo Dai Dai Ok 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 Sì tra poco finisco anche Finisco anche le munizioni Uso un caricatore per nemico Presa poco Allora Allora Porco Ok Ok dai Ho perso il conto però Vabbè Qui È dove mi inculano Più spesso Ok Allora Qua C'è nessuno Ok Ok Tutto libero Perfetto Carichiamo sempre Metodo Call of Duty Dobbiamo andare qua Dobbiamo andare qua Scusate sempre se parlo Un po' Un po' piano Perché sono troppo concentrato Dai Fammi trovare Ecco Porco Porco Ma è sempre la Testa Headshot Ok Proviamo Che qua È tutto a posto Tutto libero Un altro double kill Un altro double kill Ok Ok Qua È a posto Qua Sono appena andato Ok Qua è a posto Qua sono venuto prima Vabbè Aspetta un attimo Dobbiamo vedere Qua giù In fondo Forse Questo qua Si può aprire No Ok Allora Torniamo indietro Eh Facciamo forza Vediamo qua Qua Dove sono andato prima Ok Allora Se intanto Tutto di colpo C'è il Il suono del vento O del motore Qua Allora Qua Non c'è Nessuno Adesso Forse ci manca soltanto Da basso Non mi ricordo Non mi ricordo se Questa qua è la porta Dove sono entrato prima Forse no Vediamo Sì sì Com'è messo Com'è messo sto qua Vabbè Ehm No aspetta Dove cavolo qua Andiamo fuori Dai 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 Proviamo a Ehm Andare Ehm Da basso Dovrebbero Mancare Mancarne pochi Credo Qua Non c'è nessuno Non sento passi Ok Tutto a posto Non c'è nessuno Non sento passi Ok Tutto a posto Non c'è nessuno Tutto a posto Ok 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 Voglio scappare da qua E ricarico intanto Oh oh C'è qualcuno qua di sicuro Perché ho sentito Una voce Dov'è? Proviamo ad entrare da qua Ma dove? Cavolo Ah forse è per di qua Vediamo Perché sono tutti quanti Dormono adesso Se non so Orco 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 no Nooo Nooo Ma quanti meno mancavano Mancavano Strapocchi Va bene dai Vedo che questa puntata ha durato anche forse un po' troppo Cercherò di fare E Più video magari in questa In queste vacanze di Natale Scusate ancora per questo lungo Per questa lunga attesa Direi che possiamo chiudere qui il gameplay E ci rivediamo alla prossima puntata Bella a tutti ragazzi Grazie a tutti Grazie a tutti